No, ha detto la ciappetta e lo faccio la crema di cioccolato E non si coche la cosa No, non, 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 non getta ora dai con Shasha Shasha è te persona che? non basta per questo è bucchè è bucchè ma che cucciana? no bravo bucchè 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti